La partita della partita diciamo, è una delle partite più importanti che si possa giocare, due squadre di livello mondiale con giocatori top top, è una partita bellissima da vedere, bellissima da giocare, bellissima tutto, l'atmosfera, spero possa vincere il migliore. E chi è il migliore? In questo momento sembra che era il Madrid, anche perché stiamo parlando di una squadra che ha sempre fatto bene in questi anni di Champions, ma di fronte affronterà una squadra che può dire anche la sua.